vero sì ho detto che lo avrei solo fotografato invece due cose ve lo dico allora questo è un motivo a foglie veramente facile da realizzare è impreciso lo schema che mi è stato dato e quindi intuisco dei vivagni che non compaiono nella spiegazione e mi viene a mancare una certa regolarità e consistenza lungo i lati allora questo filato come potete notare è abbastanza sottile il campione l'ho realizzato con i ferri del 6 non ho un righello sul tavolo manco un metro mi sa no ce l'ho tutti di là per farvi capire più o meno lo spessore ecco lo mettiamo vicino al tiglio così ve lo andate a vedere o non ha etichetta questo viene da una matassa questo filato non è etichettata allora eccolo qua quindi non con indicazioni di calibri ecco o se potete notarla la differenza io sto solo tenendo fermi i filati non li sto mettendo in tensione vediamo più vicino quindi quello chiaro è più sottile di quello grigio perla del tiglio di Morefill il vero è che il tiglio se lo tirate ecco perde il suo volume mentre questo non è per niente elastico sono più capi sottili messi insieme diversi è diverso come filato rispetto eccolo qua mettiamo insieme le due codine secondo ecco come potete vedere è diverso il filato questo è più setoso ecco se sembra subito rustico questo quando si tocca a questo dice ah come è morbido quella che poi non è morbido setoso è una cosa la morbidezza coinvolge l'aria che può rimanere all'interno del filato ecco e poi la natura delle fibre nonché la torsione questo è veramente rustico vetrosetto diciamo eccolo qua quindi questo tipo di lavorazione per rendere chiede la fedeltà del calibro rispetto alle dimensioni del filato lui si può lavorare anche con filati leggermente elastici poi lo proverò anche con il tiglio questo motivo anche sì sono queste foglie che negli schemi sembrano molto rotonde lui è un motivo che mi piace tantissimo è anche intuitivo dopo un po' che lo lavorate riuscite a barcarmenarvi senza seguire lo schema ecco diciamo per i più insicuri ecco consiglio la realizzazione di una riga di due righe abbastanza lunghe in modo da vedere come si muovono i motivi nel loro incastro questo è un bel triangolo come vedete rispetto alla larghezza abbiamo una certa profondità è quasi un triangolo equilatero ma si accentua la profondità questo nei triangoli negli sciagli secondo me è un po' un guaio ma sicuramente tutto questo andamento potrebbe risolversi con il cambio del calibro è da vedersi cosa c'è da fare allora è aumentiamo aumentiamo la cornice laterale aumentiamo la cornice laterale che non è di facile gestione la cornice laterale no non lo è per niente diciamocelo la crescita di questo motivo non è semplice ma il motivo nella realizzazione lo è assolutamente però vedete come crea effetto contenitore lo chiamo ecco troppo disordine non si mette bene in evidenza il motivo e questo è il suo retro che va anche affascinante ma notate ve lo metto di traverso ecco notate la profondità delle foglioline ecco tutta questa tridimensionalità scombina il motivo non lo rende leggibile guardate che belli però i motivi aperti dei rovesci che davanti non si leggono praticamente niente ecco todos qua ne quadra pogos quindi non possiamo sempre decidere noi di alterare il calibro del ferro se vogliamo comunque trasparenza non tutti i motivi che si prestano a queste nostre licenze poetiche tecniche di volume a presto ciao sono stata breve visto visto tutto Grazie a tutti.